Vabbè, Giorgien, che se no desof mi ne bide! Peppinna! Beh, ascolta, ma ho chiesto fratelli dove c'è chi trappi lì. Vieni monopati in chi è strada per tutta la città, e io me c'è chi! E non c'è nana che la gente a posteggiati si può strampare, eh? Sì, che lavoro da sciocchi! Adesso io voglio provare anche a me! Buon occhio in carabin! Grazie a tutti!